E' illegittimo il provvedimento col quale l'amministrazione non ha accolto l'istanza di ingresso in Italia come collaboratrice domestica di una cittadina peruviana basato su un parere contrario per segnalazione false e assunzioni. Di fatto è una motivazione inesistente. Infatti la formula usata, parere contrario per segnalazione false e assunzioni, è generica ed ha per scontato la verità circa il fatto di false e assunzioni, ma è priva di alcun concreto riferimento sia al tipo di segnalazioni giunte all'amministrazione, sia al loro contenuto, sia alla loro provenienza. Grazie.